Doppio turno, diverso metodo di assegnazione dei seggi, collegio unico regionale, premio di maggioranza solo alle coalizioni che superano il 45% ed elezione non automatica del candidato presidente non eletto. Sono queste le cinque proposte per il cambiamento che l'Unione di Centro avanza in vista della riforma della legge elettorale regionale. Il pacchetto di proposte emendative è stato presentato a Palazzo Cesaroni dal capogruppo consigliare Sandra Monacelli. Il consigliere regionale ha illustrato i singoli interventi di modifica spiegando che il doppio turno risulta decisamente più democratico rispetto al turno unico. Il metodo di assegnazione dei seggi attualmente utilizzato andrebbe sostituito con un altro che non penalizzi le liste minori. Il collegio unico regionale dovrebbe evitare l'eccessiva frammentazione della rappresentanza. Infine andrà prevista la non automatica elezione del candidato presidente che non risulta vincitore. Il seggio dovrà comunque essere conquistato ottenendo preferenze. Monacelli ha sottolineato che quest'ultimo è l'aspetto più innovativo della proposta ed è mirato alla valorizzazione delle persone, delle capacità e del consenso popolare per dare più potere ai cittadini.